ah ciao ragazzi non l'avevo visto, vi ricordate quel video di Goku come disegnarlo che avevo fatto tanto tempo fa? quanto era brutto? rifacciamola no vabbè scherzo, poi vi faccio vedere la musica vabbè qua primo disegno, non è assolutamente Goku, era un personaggio che ho voluto fare io a casa e vabbè, poi abbiamo questo qui un Goku, non mi ricordo se l'ho fatto Super Saiyan però comunque ho provato a farlo, è venuto così già lo vedo il video sicuro raga poi abbiamo un Goku Ultraistinto è venuto da abbastanza carino, a me piace abbiamo Goku che si trasforma per la prima volta in Super Saiyan questo è il mio preferito tra tutti però vabbè e poi qui abbiamo un altro Goku senza Maya sicuramente in un'altra collezione e venite per ripartare a vedere mi piace avere l'ordine di bellezza secondo me perché altrimenti non sto più e poi siamo pronti, venite pure questo è questo che non è una cosa che si ha abituato a vedere lì tanto se non ci vede un cavolo venite venite e fai non sbagliare ecco ecco venite venite qui abbiamo altri pochi disegni nel fare Goku che ho fatto davvero comunque davvero pochi mica abbiamo una cosa infinita ragazzi ho davvero pochi disegni comunque alla fine non mi diverto tanto a farli rimetti dei perus Spercoli ecco per rifarlo ragazzi l'ultimo video lo stavo ripetendo era davvero brutto ma davvero brutto è brutto se volete un video lo insegno beh ve lo insegno Non mi chiedete dove l'ho trovata Ma io l'ho trovata Vediamo quanto colpi c'è ognuno Per spaccare la telecamera